Abbiamo quasi 4 milioni di persone sopra i 50 anni non vaccinate ad annunciarlo e il sottosegretario alla salute per Paolo Sileri in autunno è verosimile una recrudescenza prevalentemente tra non vaccinati ha aggiunto abbiamo quasi 4 milioni di persone sopra i 50 anni non vaccinate arriverà un'altra ondata e se resteranno questi i numeri è possibile che dovremo vedere nei prossimi mesi ancora la morte di altre migliaia di persone forse anche 30.000 considerando i non vaccinati sopra i 50 anni il sottosegretario alla salute per Paolo Sileri lo ha dichiarato in un'intervista ad agora estate sul Rai 3 commentando gli ultimi numeri sull'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus in Italia intervenendo a timeline in onda su Sky TG24 l'esperto ha aggiunto che nel complesso ci sono ancora 13 14 milioni di italiani che non hanno ancora ricevuto la prima dose del vaccino dal totale vanno esclusi i bambini con meno di 12 anni e le categorie che per vari motivi non possono vaccinarsi adesso ci sarà l'ultima chiamata